Ve n'è rimasta lana? Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Eh sì, ve n'è rimasta lana perché anche oggi facciamo quattro decorazioni stupende di lana Le decorazioni felici, le decorazioni che piacciono ai bambini, colorate, divertenti e con dei soggetti che piacciono proprio ai bimbi Quindi potrete farvi aiutare da loro per realizzarle Prima di spostarci sul piano da lavoro iscriviti se non sei ancora iscritto, attiva la campanella, vienimi a trovare su Instagram e taggami con l'hashtag arte per te video con le tue creazioni In modo che io possa prenderne una e portarla qui in video con me e farla vedere a tutti i nostri amici di Arte per te In più vi aspetto anche su Facebook naturalmente ma adesso basta parlare, mi sono dilungata troppo Andiamo a creare le decorazioni di Natale con la lana Decorazioni felici Ed ecco l'occorrente per creare le nostre decorazioni felici della lana di diversificati colori Il mio Natale sarà verde, rosso e bianco Quindi un cartoncino, questo grezzo per fare delle sagome, penna e matita, un paio di forbici Pistola per colla a caldo e relativa a stecca In alternativa potete usare anche l'attaccatutto E abbellimenti vari tipo pompon, bottoncini Come prima cosa disegniamo la sagoma del nostro soggettino Il nostro primo soggetto sarà una bella stecca di caramella, una candy bar E allora sagomiamone una sul cartoncino Quindi io ripasso a penna per farvi vedere bene la sagoma Così potrete farvi un fermo immagine da copiare uguale uguale Adesso ritagliamo la sagoma A questo punto scegliamo una bella lana rossa E fissiamola alla base del cartoncino con un punto di colla a caldo Stando attenti a coprire totalmente il margine inferiore Adesso sporcando con la colla a caldo via via sempre di più Cominciamo a salire lungo il corpo della caramella E cominciamo ad arrotolare bene la lana Alla fine quando avremo finito di arrotolare Tagliamo il capo un poco in disavanzo E copriamo il margine superiore così Quindi eliminiamo l'eccesso tagliando l'esubero di lana Adesso facciamo il gancetto Mea culpa avrei dovuto farlo prima Ma l'ho dimenticato quindi nessuna paura Se come me siete dei distrattoni fatelo adesso Mettete un occhiello di lana Altrimenti ricordatevi di farlo prima di cominciare ad avvolgere la lana Ora è il momento di caratterizzare la nostra caramella Partiamo da uno degli angoli E fissiamo con un punto di colla a caldo la lana bianca Adesso cominciamo ad arrotolare Lasciando uno spazio di un paio di centimetri Tra un giro e l'altro Un centimetro e mezzo due centimetri Basteranno pochi giri per creare la più bella E morbida e sofficiosa delle nostre caramelle Decorazione numero due Cartoncino, penna, matita, lana verde e rossa Un pompon e tanta creatività Un paio di forpici, pistola per colla a caldo e relativa stecca Ritagliamo la nostra sagoma Che dovrà essere un semplicissimo triangolino Facciamo insieme un bell'albero di Natale Adesso ritagliate la sagoma Sul vertice del triangolo Sparate un bel punto di colla a caldo E cominciamo ad arrotolare la lana verde Dall'alto verso il basso Fatelo in maniera abbastanza ordinata E fissate la lana man mano che andate avanti Con un punto di colla a caldo quella Arrivati alla fine Non dimenticatevi di coprire la base con un filo di lana Quindi sempre dal vertice facciamo partire la lana rossa E distanziandola un po' Cominciamo con dei vortici che avvolgano tutto l'alberello A mo' di festone Ogni giro un punto di colla Messo il festone occupiamoci delle palline Io le farò sempre in lana con un semplice nodino di lana Che taglierò e fisserò all'interno del mio alberello Ma voi potete anche ovviare a questo lavoro con dei bottoncini o dei pompon piccolissimi Qui addobbate l'albero a fantasia Decorandolo secondo il vostro gusto Adesso è il momento del puntale Io metterò un pompon rosso che forerò al centro per farlo ben inserire nel vertice del nostro triangolino Metterò un puntino di colla a caldo All'interno del buchino che ho praticato inserirò i laccetti che servono per renderlo un pendaglio Quindi darò forma di nuovo al mio pompon E lo andrò semplicemente ad appiccicare appunto sulla sommità dell'alberello E voilà la nostra seconda decorazione felice e allegra Eccola pronta per il vostro albero Terza decorazione Ci occorrerà la lana verde Io ne ho di due tonalità e le userò entrambe Della lana bianca Dei pompon rossi Una penna per farvi la sagoma Qualcosa per prendere la sagoma circolare E del cartoncino Facciamo insieme una bella ghirlanda Con un tappo più grande cerchio una circonferenza Prendo una formina più piccola E faccio la mia ciambellina da ritagliare Quindi ritaglio la sagoma Ritagliato interno ed esterno Comincio a fissare i capi della mia lana In due colori differenti E comincio ad arrotolare Come avete visto ho creato un piccolo gomitolino Che mi permetta di passare agevolmente Dal buchino della ghirlanda Arrotola, 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 arrotola E quello che avremo sarà questa cicciottissima ghirlanda Alla quale andrò ad aggiungere un nastrino Di lana bianco Un filo di lana bianco più spesso Che arrotolerò Così lasciando un grande spazio Tra un giro e l'altro Ricongiungo la lana Lì dove avevo cominciato il giro In modo che si mimetizzi perfettamente E con l'eccesso Creo l'occhiello Per la mia decorazione Voilà A questo punto è il momento di decorare la ghirlanda Con tanti pompon O bottoncini O quello che volrete I miei pompon sono troppo grandi Allora cosa faccio Li poggio e poi li taglio Per lasciare l'orma di essi E simulare le palline Adesso creo un bel fiocchettone Bianco e morbidone E con questo vado ad abbellire Ed impreziosire ulteriormente la mia ghirlanda Appiccicandolo con un punto di colla a caldo Nella parte bassa Ed ecco qua Una bellissima ghirlanda Per agghindare ancora di più Il vostro bellissimo e allegrissimo albero Ultima decorazione Facciamo la calza della befana Ci occorrerà della lana Rossa, bianca, verde Sagoma Pistola per colla a caldo Cartoncino Le solite cose Ritagliamo la sagoma della calzetta Della befana E cominciamo a creare l'occhiello Che io adagerò Nella parte superiore Esterna della calza Con una lana di colore rosso Quindi come abbiamo visto fare Per le candy bar Cominciamo ad arrotolare la lana Facendo attenzione A coprire il margine superiore Con la lana bianca Sarà la parte del risvolto Fatto il risvolto Faccio il corpo della calza Con la lana verde E quindi arrotolo 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 Tutta la mia lana verde E alterno con la lana rossa Per fare una bella calza a righe Perché la nostra befana È sempre molto fashion Voi potete farla dei colori Che preferite ovviamente La punta la rifaccio Con lana bianca Per dare continuità Al risvolto Quindi copro il margine esterno Curvato Quindi arrotolo la lana Fisso bene tutto con la colla a caldo E sempre con la colla a caldo Faccio anche il tallone Passando di sbiego la lana E assicurandola con la colla a caldo Ecco qui la calzetta della befana Pronta per essere riempita E farcita di ogni bontà Ed ecco le quali nostre bellissime E felicissime Allegrissime Gioiosissime decorazioni Per il Natale dei bambini Queste piacciono sicuramente Ai vostri piccolini Ma vi devo dire la verità Piacciano un sacco anche a me Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciatemi un like Ci vediamo dopo le foto Ciao Ciao! Visto che belle e che allegra Le nostre decorazioni Mi sono piaciute tantissimo Enzino appena le ha viste Ha fatto Wow mamma Questa è nel mio albero E infatti quelle andranno nell'albero Della sua cameretta Colorate e giocose Bene se questo video vi è piaciuto Pollice in su e condivisione E ricordatevi Taggatemi sempre con le vostre creazioni Con l'hashtag Arte per te video Oggi a taggarmi è stato Vediamo rullo di tamburi È stato Enzo Sarcinello Con Sarcinello? Sì Enzo Sarcinello Con i papaveri Che è un compito Che avevo assegnato Sul corso di disegno Di arte per te Che vi aspetta su facebook Il corso di disegno Di arte per te E allora Enzo sei bravissimo Che dire Sembrano vivi Veramente complimentissimi E grazie per aver condiviso Con noi La tua arte Andate a trovare Enzo Sul suo instagram Ma prima mi raccomando Iscrivetevi sull'instagram Di arte per te Ciao Enzo Un grande bacio Bellissimo nome ragazzo Bellissimo nome E allora Basta cianciare Noi ci ritroviamo sempre qui Per un prossimo video creativo Da ombretta E da arte per te Tutto Alla prossima volta Ciao Ciao